Una firma che fa bene Ancora oggi ci sono nel mondo tanti bambini privi di ogni diritto. I religiosi Gavanis credono nell'educazione come forma efficace e privilegiata di promozione della vita. Nei paesi dove sono presenti da anni si dedicano alla formazione della mente e del cuore dei ragazzi, soprattutto i meno fortunati. Con la tua firma puoi unirti a loro e diventare protagonista della trasformazione della loro vita e quella di altri bambini, garantendo il loro cibo, cure sanitarie e studio. Sottoscrivendo il 5 per 1000, con la dichiarazione dei redditi, aiuti i bambini accolti nelle missioni Gavanis in Bolivia, Brasile, Colombia, Congo, Ecuador e Filippine. Grazie a tutti.